Pomeriggio di spettacolo, bellezza ed emozioni al centro commerciale gotico che dopo l'elezione di Miss Piacenza ospita l'elezione di Miss Cotonella Emilia Romagna. Un titolo importante perché la ragazza che conquesterà la fascia parteciperà di diritto alle pre-finali di Miss Italia a Iesolo dall'1 al 4 settembre. 30 di loro sbarcheranno poi alla finale per contendersi il titolo di Miss Italia 2015 che verrà assegnato il 20 settembre sulla 7 nello show condotto da Simona Ventura. Prima di eleggere Miss Cotonella al gotico ci sono in paglio altri titoli come quello provinciale di Miss Gotico oltre a quelli di Miss Rocchetta Bellezza, Miss Cotonella, Miss Compagnia della Bellezza e Miss Interflora. Trucco parrucco prove prima della sfilata davanti alla giuria in costume pareo, in abito elegante e con il consueto costume d'ordinanza.